Come ormai tradizione è dicembre, e a dicembre si parla di DOS. In questo video vi diamo una tematica a me cara, cioè i file manager. Prima di continuare ti ricordo che io faccio video dove parlo di Linux, di programmazione e di retrocomputing. Se questi argomenti ti interessano, iscriviti al mio canale, attiva la campanella, commenta e metti un like a questo video. Iniziamo con un po' di storia. La versione 1.0 del DOS, uscita nel 1981 in concomitanza col PCBM, era fortemente ispirata dal sistema operativo CPM degli anni 70, e quindi non aveva il concetto di directory. Questo è anche il motivo per cui il prompt delle vecchie versioni del DOS ti mostra solo la lettera di unità seguito subito dal simbolo maggiore. Ai tempi era normale per un PC avere solo uno o due lettori floppy e nessun hard disk. Di conseguenza, il semplice comando DIR, assieme agli altri comandi base del DOS, erano più che sufficienti per gestire i file su floppy. La situazione però cambia rapidamente, ed ecco che nel 1983 esce la versione 2.0 di MS-DOS, che porta con sé due novità importanti, il supporto dai rettori sotto dai rettori ed il supporto agli hard disk. Sempre nel 1983, Jeffrey Johnson viene assunto alle Executive Systems. L'Executive Systems era una software house che inizialmente scriveva numerosi software su commissione dell'Epson. Per via di questi numerosi software commissionati, il numero di file e directory sparsi per vari floppy hard disk dell'Executive Systems stava diventando ingestibile. In più, all'epoca, non esisteva nessun software in grado di gestire file su diverse directory. Ecco quindi che Jeffrey Johnson, assieme ai suoi colleghi dell'Executive Systems, crea X3, la cui versione 1.0, che consiste in un unico eseguibile da circa 34K, viene pubblicata il primo aprile 1985 alla West Coast Computer Fair in San Francisco. Come puoi vedere, si tratta di un programma in bianco e nero, dove il pannello in alto a sinistra ti mostra l'albero delle directory. Ecco, voglio fermarmi un attimo a riflettere su questo. Il fatto che abbiamo le directory rappresentate graficamente come un albero è un'innovazione nata proprio qui, nella versione 1.0 di X3, e poi copiata da tutti gli altri file manager fino ai giorni nostri. Sotto all'albero delle directory c'è l'elenco dei file contenuti nella directory selezionata. I pannelli a destra, invece, mostrano un po' di statistiche che per ora non ci interessano. La parte in basso dello schermo, invece, è quella più utile, perché ci dice a quale tasto corrisponde ogni azione possibile. Dal momento che basta un singolo tasto per compiere qualunque azione e dai una rappresentazione grafica dei file delle directory, ecco che ti ritrovi tra le mani uno strumento potentissimo e facile da utilizzare, soprattutto se consideri che siamo nel 1985. Però, visto che siamo nel 1985, ci sono due cose che non mi piacciono di questa versione di X3. La prima è che ti logga l'intero contenuto del disco, e, visto che siamo sotto DOS, siamo limitati dai 640k di RAM. Quindi, se hai molti file su disco, X3 potrebbe non partire nemmeno perché esaurisce la memoria. La seconda è che non sono ancora stati standardizzati certi tasti, e qui parlo di informatica in generale. Per esempio, oggi è normale aspettarsi che se premi il tasto F1 questo corrisponde all'help. E infatti, se premi F1 su X3, esci? E allora qual è il tasto di help? Ma F2, ovviamente. Oppure, se visualizzo un file, per uscire dal visualizzatore mi aspetto o di premere ESC, oppure di premere Q, come qui ti sai com'è. Invece è invio. Il tasto invio, anticamente, era anche conosciuto col nome di return. Quindi da questo lato ha senso usare il tasto return per ritornare a X3. Potrei andare avanti ancora, ma penso di aver reso l'idea. Torniamo ora indietro di un anno. Nel 1984, John Socha, all'epoca studente della Cornell University, inizia a lavorare su un progetto che chiama Visual DOS. Dopo essersi laureato, John Socha viene assunto da Peter Norton, ed il suo Visual DOS viene rinominato in Norton Commander, la cui prima versione usciva nel 1986. Come puoi vedere, la versione 1.0 di Norton Commander ha già il classico aspetto dei pannelli, con la leggenda dei tasti di funzione in basso allo schermo. L'unica differenza rispetto alle versioni successive dai suoi cloni è che i due pannelli sono alti solo alla metà dello schermo, dandoti quindi più visibilità agli output dei comandi. Il layout a due pannelli lo trovo formidabile, perché molte operazioni su file richiedono una sorgente ed una destinazione, ed i due pannelli sono perfetti per quelle operazioni. I tasti di funzione sono gli stessi che usiamo oggi su Midnight Commander o sul mio R&R. Se visualizziamo un file, il tasto ESC esce giustamente dal visualizzatore. Ed in più, Norton Commander ha pure un editore di testo integrato. Ti ricordo che siamo nel 1986, la versione corrente del DOS è la 3.2, ed il DOS non avrà un editore decente fino al DOS 5 nel 1991. Già, il DOS 5 del 1991. La Microsoft, con questa versione di DOS, fa un becero tentativo di fail manager con DOS Shell. Ma la lentezza di DOS Shell e la sua scomodità, specialmente se paragonata alle operazioni con un singolo tasto di X3 o ai due pannelli di Norton Commander, hanno fatto sì che DOS Shell fosse solo una piccola parentesi fallimentare in due versioni di DOS, la 4 e la 5 per esattezza. A onore del vero, la causa principale dell'abbandono di DOS Shell da parte di Microsoft era dovuta al fatto che la Microsoft ha concentrato i suoi sforzi su Windows, che considerava la vera interfaccia visuale per DOS. Ma torniamo a noi. Dicevamo che X3 e Norton Commander ebbero entrambi un successo strepitoso, ed entrambi venivano aggiornati e venivano implementate sempre più funzionalità. X3 ha cambiato nome prima in X3 Pro, poi in X3 Pro Gold ed infine in X3 Gold, la cui ultima versione è la 3.01 del 1993. Norton Commander non ha subito cambi di nome, ma ha semplicemente incrementato il suo numero di versione. L'ultima versione di Norton Commander è la 5.51 del 1998. Entrambi i file manager hanno una storia un po' burrascosa, che non vado a raccontarti nel dettaglio, ma ti lascio i link in descrizione nel caso ti interessasse. Voglio comunque dare un'occhiata alle ultime versioni per DOS sia di X3 Gold che di Norton Commander. Partiamo da X3 Gold. Come puoi vedere, ha un'interfaccia bella colorata. Questa volta, invece che loggare tutti i file presenti su disco, ti logga solo quelli relativi alla directory corrente. Questo porta con sé due vantaggi. Il primo è che si avvia più rapidamente. Il secondo è che ti permette di operare su hard disk che hanno migliaia di file in directory differenti. Ricordiamoci sempre che siamo limitati dai 640K di RAM, quindi loggare solo le directory che ci interessano è un buon metodo per non consumare eccessivamente la memoria. Siamo cresciuti anche di dimensioni. Infatti un'installazione completa di X3 Gold pesa circa 3 MB. In questi 3 MB sono state implementate numerose funzionalità interessanti, almeno per l'epoca. Abbiamo un editor di testo. Un tool per visualizzare differenza tra file chiamato JFC, che possiamo considerare un antenato di MELD. Abbiamo poi dei visualizzatori di svariati tipi di file, la maggior parte dei quali ormai obsoleti, come per esempio Lotus 1.2.3 World Perfect. In questo caso stiamo visualizzando un'immagine in formato PCX. Oltre a visualizzare svariati tipi di file, X3 Gold supporta anche gli archivi compressi in formato zip. Quindi possiamo andare ad aprire, per esempio, questo file, che è la demo del videogioco Aladin, e possiamo visualizzare i contenuti dell'archivio senza necessariamente estrarlo. Ovviamente possiamo anche estrarre tutto l'archivio solo determinati file. È anche possibile taggare i file che ci interessano e creare un archivio zip contenente file taggati. Purtroppo non riesco a mostrarti questa funzionalità perché l'emulatore 86 box che sto utilizzando per questo video non mi accetta la combinazione di tasti contro l'F5. Poi, altra cosa bella di X3 Gold è che premendo F8 attivi la modalità due pannelli, così semplifichi le operazioni di copia spostamento file, visto che lavori in maniera simile a Northo Commander, dove su un pannello ti posizioni sulla sorgente e sull'altro vai sulla disnazione. Ultima cosa molto bella di X3 Gold è che finalmente i tasti hanno un senso logico. F1 è il tasto di help. ESC annulla ed esce dai visualizzatori. Q esce dal programma. Insomma, X3 Gold era veramente un file manager completo e veloce da usare. Veniamo ora a Northo Commander 5.51. A differenza di X3 Gold, qui l'interfaccia non è cambiata di molto rispetto a Northo Commander 1.0. Abbiamo i due pannelli che si estendono per tutta l'altezza dello schermo, cosa successe in realtà già dalla versione 2.0 di Northo Commander, ma a parte quello le differenze non sono molte. Considerando che un'installazione completa di Northo Commander 5.51 pesa circa 5 MB, cosa ha da offrire in più rispetto alla versione 1.0 che è spesa 60 volte meno? Iniziamo dal dire che la versione 1.0 di Northo Commander non supportava la ricorsione nelle directory, il che significa che non potevi copiare directory da una parte all'altra e non potevi eliminare directory non vuote. Con la versione 5.51 di Northo Commander puoi effettuare facilmente entrambe le operazioni. Come per X3 Gold, ora anche Northo Commander ha dei visualizzatori di file e anche in questo caso non ha problemi a visualizzare le immagini in formato PCX. Ora anche Northo Commander apre gli archivi compressi zip, come se fossero normali directory, e quindi possiamo visualizzare file all'interno dell'archivio senza bisogno di estrarli, oppure possiamo estrarre i file dell'archivio semplicemente copiandoli nelle directory di destinazione. Tutto qui quindi? Praticamente sì, e questo non giustifica per niente il fatto che questa versione di Northo Commander sia così pesante. Oltre che essere pesante, nel senso che pesa 5 MB, è pesante anche nel fatto che alcune operazioni inizia a sentirle poco responsive. Quindi, come puoi vedere, il concetto di bloatware non è per niente nuovo. Ma facciamo un attimo un passo indietro nel tempo. 1992 Le versioni 1, 2 e 3 di Northo Commander sono incredibilmente popolari, soprattutto nell'est dell'Europa. Svolod Volkov, spero di averlo pronunciato correttamente, all'epoca studente dell'Università di Kiev, scrive il suo clone di Northo Commander chiamato Volkov Commander e lo rilascia prima come Freeware, poi come Shareware ed infine come Freeware nuovamente. La versione più vecchia che sono riuscito a trovare è la 4.0.020 alfa del 1992. Non so se sono state rilasciate versioni precedenti a questa. Bene, già questa versione ha tutte le funzionalità che ti aspetti da un full manager stile Northo Commander, compresa la possibilità di copiare dai rettori ricorsivamente o cancellare dai rettori ricorsivamente, cosa che nelle versioni contemporanee di Northo Commander non era possibile. Il tutto in un unico eseguibile da circa 40k. Vista la sua leggerezza ed il fatto che veniva distribuito gratuitamente, Volkov Commander ha goduto di un certo successo, soprattutto nell'est dell'Europa. L'ultima versione di Volkov Commander è la 4.99.08 alfa rilasciata nel 2000. Anche questa versione è molto leggera. L'intera distribuzione con tanto di documentazione pesa solo 176k. Questo significa che puoi mettere Volkov Commander in un unico floppy da 360k e ti rimane ancora circa metà del floppy disponibile. Novità importante di questa versione rispetto a quelle precedenti è il supporto agli archivi compressi, a patto che il comando pkx sia presente nel path. Ovviamente, vista la sua leggerezza, non ha nessun visualizzatore di file particolari, quindi la nostra bella immagine pcx viene vista come un semplice file binario. Non si può avere tutto dalla vita. Personalmente, trovo questa versione di Volkov Commander ottima. È leggerissima, funziona bene e supporta gli archivi compressi. Mi ha stupito quanto funziona bene anche su un vecchio Livetti M24, nonostante si tratti di un software scritto nel 2000. Ok, e per quanto riguarda X3 Gold, esiste un suo clone freeware o shareware? Beh, sì, esiste, ma non mi fa impazzire. Tra il 1995 ed il 1997, due tedeschi chiamati Martin Amelsberg e Michael Weber, scusa la pronuncia, creano un clone freeware di X3 Gold chiamato File Master. Il problema è che tra il 1995 ed il 1997, del DOS non gliene fregava più niente a nessuno, quindi ho trovato ben poche informazioni a riguardo. L'unica versione che ho trovato è la 3.1 del 1997. E sì, superficialmente ricorda X3 Gold, però lo trovo lento, pesante e poco responsivo. Ora, è chiaro che se provi File Master su un PC di oggi usando DOS Box non te ne accorgi, ma su un 386 SX a 20 MHz simulato da 86 box te ne accorgi come se è un programma responsivo o meno. Nonostante pesi circa 1,8 MB, e quindi è troppo grosso pure per stare in un floppy da 1,44 MB, ha solo una frazione delle funzionalità di X3 Gold. Non supporta il layout a due pannelli, non ha i visualizzatori di file, e il suo supporto agli archivi compressi lascia desiderare. Te l'ho voluto mostrare giusto per completezza. Concludendo. Con X3 abbiamo visto un'evoluzione pazzesca, e X3 Gold versione 3.01 è sicuramente il file manager più completo per DOS. Consigliatissimo. North On Commander ha iniziato benissimo, ma poi col passare delle versioni è divenuto troppo pesante senza portare con sé novità che giustifichino il suo peso. Meno male che quando North On Commander è iniziato a diventare pesante, è spuntato quasi dal nulla Volkov Commander, che porta avanti tutte le funzionalità utili di North On Commander, ma pesando pochissimo. Ovviamente questi non sono gli unici file manager disponibili per DOS, ma sicuramente sono i più importanti da un punto di vista storico. Grazie dell'attenzione. Ti ricordo che trovi i miei video sia su YouTube che su Odyssey. Trovi tutti i link in descrizione. Al prossimo video. Ciao!